c'è un modo di dire che uso molto spesso e cioè sbattere gli spaghetti al muro per vedere quello che rimane attaccato credo che sia un modo di dire che ho tradotto dall'inglese non so se esiste originariamente in italiano però è un modo che rende bene l'idea di quando non si sa bene quello che si sta facendo e si va così per tentativi e il fatto che si usi questa immagine degli spaghetti lanciati contro il muro per vedere se rimangono attaccati è un'immagine molto molto veritiera perché non so se ci avete mai fatto caso trovare sul pacco della pasta il minutaggio per la cottura è praticamente impossibile io ho fatto la prova con diversi diversi tipi di diversi marchi di pasta quindi la barilla la buitoni la dececco la vogliello e in tutti è estremamente difficile trovare quanti minuti deve cuocere la pasta in alcuni proprio ho abbandonato perché non ci sono proprio riuscita non solo ma quando poi si trova è scritto sempre in posti strani ed è scritto con un carattere minuscolo e io con l'età del sub bisogno degli occhiali quindi non ci vedo devo prendermi una lente di ingrandimento non capisco perché anche perché voi lo sapete meglio di me i tipi di pasta richiedono diversa cottura e quando io vado di fretta e poi mi rendo conto che per fare due spaghetti al volo ho preso una pasta che ha bisogno di 13 minuti di cottura no non va bene così a naso ci arrivo che più è spessa la pasta gli spaghettini naturalmente richiederanno meno cottura delle fettucine però porca miseria ma che cosa vi costa voi che producete questi pacchi di pasta che fate il design che cosa vi costa mettere bello in grande con un carattere 20 sul davanti del pacco della pasta questi benedetti minuti di cottura è una cosa che proprio mi fa andare in bestia più o meno lo so quando bisogna cuocere la pasta più alla fine l'assaggio c'è anche questo da dire che io detesto assaggiare la pasta infatti cerco sempre qualcuno a casa mio figlio ha imparato a assaggiare la pasta che praticamente aveva tre anni perché appena ho potuto mettergliela in bocca tieni dia mamma se è buona se sei pronto se la possiamo scolare perché poi per qualche motivo mi brucio sempre la lingua c'è sempre dell'acqua dentro non riesco mai a insomma mi casino e sì diciamo più o meno so quanto deve cuocere la pasta ma che cosa gli costa a questi produttori di pasta e ogni volta dicevo ogni volta che vedo un pacco di pasta dove non si capisce il minutaggio mi sale l'embolo perché è un esempio di design che avrebbero potuto fare in modo da agevolare l'utilizzo di quello che stanno vendendo invece rendono l'utilizzo della pasta più difficile perché bisogna sempre andare a tentativi e non si capisce mai quanti cavolo di minuti deve cuocere la pasta grazie